Wow, Nina, oggi sei davvero... Favolosa? Lo dice anche Olga. Sì, sì, sei favolosa! Su, giù, amiche, sempre più! Pensi di riuscire ad arrivare fino a scuola senza sporcarti? Certo! Cosa potrebbe andare storto? Ii, no, no! No! Ora sì che somiglia a Nina. Non è divertente, Teo. Non ho superato neanche il giardino e già sono un disastro. Oh, potrei provare a pulirti. Oh, no! Ora è anche peggio! Ops, scusa.